I conti deposito non hanno senso. I conti deposito sono soldi che una banca usa per operare. Tu presti soldi a una banca, ricevi un piccolo tasso di interesse da parte della banca, ma la banca non ha solo questo modo per finanziarsi. Può anche finanziarsi attraverso prestiti dalle banche centrali. Se le banche centrali offrono da finanziamenti ad un tasso di interesse più basso, i conti deposito offriranno dei tassi di interesse ridicoli. Il problema principale è che i tassi di interesse delle banche centrali seguono i tassi dell'inflazione e i tassi dei conti deposito seguono i tassi delle banche centrali. È facile capire che investire in un conto deposito rende sempre meno rispetto anche solo al tasso di inflazione. Stiamo perdendo soldi. È per questo che utilizzare conti deposito nella stragrande maggioranza dei casi non ha assolutamente senso.